RICCARDO Riccardo hai capito? Alla fine sono andato al cinema a vedere quel film Ma Mangolicani proprio Mangolicani...Balla coi lupi? No, c'è Balla coi lupi, proprio Mangolicani, veramente Ah, l'ultimo dei Moicani Che stai dici, proprio Mangolicani, era il cesso il film Non si poteva guardare Mettete sui Rikki, ma che cosa hai comprato? Ha fa schifo questa roba, non sa neanche di tonno Mangolicani, veramente Casomai mancoli gatti, eh Cosa mangi? Il cibo del mio persiano? Il pallino Vai Fasqui Oh, vedi che sono sei ore che sono dentro chiuso con la Maria Mancoli conigli, come dici te I conigli? No? che non capisco che vuol dire Te che dici manco li cani ho pensato manco li conigli e c'è lo zoo che c'entra l'animale quella è una parola manco li cani è un'espressione a sé e comunque se io rodo dicione Maria è il cesso manco li cani proprio quel mo' è caduto a terra ma che fai te lo metti in bocca non si prende le cose da terra ma veramente ma ne manco li cani dimmi te le due le cani Camin Camin Patrick vieni Camin Camin vabbè non camminare più Ricky hai capito che è successo oggi? mi sono portato a Patrick a pressa da due giorni in Italia ma siamo andati in un locale veramente un bordel che è manco li cani un cocktail che è veramente manco li cani il caldo che è manco li cani che costerò di caffà ma scusa ma in che senso manco li cani non ho capito che c'è Riccardo never the dog never the dog c'è te lo devi spiegare Pad questo è frate the rap bra bra vedi vedi ma come è così che questo è inglese parla bene e tu non capisci l'italiano non ho capito